bentornati qui su quattro in vano il nostro canale siamo marta e roberto e qui vi raccontiamo un po la nostra vita su coso il nostro box life 540 della knaus oggi visto che comunque non si può viaggiare noi siamo praticamente in zona arancione in forzata rossa e non si sa per quanto non si potrà viaggiare abbiamo deciso di raccontarvi il primo accessorio che abbiamo comprato per il coso dopo aver ereditato tutti gli altri dai van precedenti questo un pochino anche per affrontare la depressione da non viaggio da essere fermi e chiusi in casa allora ci siamo dati un po allo shopping per coso quello che abbiamo deciso di comprare come primo accessorio per coso in realtà è un upgrade potremmo dire di una cosa che avevamo già che abbiamo utilizzato parecchio l'abbiamo trovato comodo ma aveva qualche piccolo difettuccio si tratta di questo oggetto che è un scalda vivande praticamente che funziona che abbiamo preso qualche anno fa perché funziona a 12 volt e lo troviamo molto comodo pensato per le auto ma ovviamente anche per il camper quando non siamo attaccati alla corrente del campeggio ad esempio lo abbiamo usato tanto per scaldare un po con esagerazione lo chiamiamo il nostro microonde da camper qui dentro mettiamo c'è questa vaschetta in metallo si l'avevo preso perché ci sono diverse opzioni che trovato online questo abbiamo preso da amazon sebbene costasse qualche euro in meno da aliexpress la differenza era veramente minima su amazon è molto più comodo ad esempio il reso se arriva fallato o se è una cosa che alla fine scopri che non ti va bene e l'avevo preso la versione con il la vaschetta interna in metallo risparmiate qualche euro con la vaschetta interna in plastica ma a me non piace che ad esempio cuocere il riso per un'ora e mezza dentro una vaschetta di plastica ho preferito il metallo è anche più facile da lavare se si unge il metallo si lava col detersivo la plastica alcune plastiche come sanno bene i campeggiatori non vengono mai rimangono sempre pregono punti antissime e quindi questo appunto qui dentro poi avevo messo anche un pezzo antiaderente perché perché l'abbiamo usato una volta per provare a farci veramente il riso da zero quindi busta di riso gallo o qualcosa del genere di quale propronta acqua e abbiamo lasciato lì aveva funzionato un po però ci ha messo un'ora e mezza l'abbiamo usato molto più spesso ed è per questo che ho dentro questa questo antiaderente riutilizzabile per scaldare le classiche quiche e torte salate che compriamo quando andiamo ai mercatini in francia che è una delle cose di che ci piace di più del viaggiare andare al mercato e comprare cose finché abbiamo la dispensa piena e la comodità di poter scaldare qualcosa senza dover avere il forno perché sul 5 40 al forno è un po difficile mettercelo appunto e abbiamo preso il fornetto e in effetti lo abbiamo trovato comodo perché al di là di tante altre caratteristiche la comodità è anche di poterlo accendere lasciare lì e andare da un'altra parte per del tempo o non doverlo guardare per forza vista come invece ovviamente va fatto se hai il fuoco acceso il fornello acceso anche banalmente avendo intorno le bambine non puoi neanche distrarti dal fuoco se loro passano intorno invece questo lo lasci lì e quella volta che avevamo ad esempio cotto il risotto mi ricordo che l'avevamo preparato ce ne siamo andati bellamente in spiaggia abbiamo fatto il bagno siamo tornati indietro e il risotto era pronto c'era voluto un po di tempo però ne era valsa la pena e qui viene il motivo per cui abbiamo deciso di fare un upgrade perché questo clac clac questo funziona appunto 12 volt rated power 45 watt quindi con 45 watt per scaldare la roba ci mettete un sacco di tempo il vantaggio è che vi appunto consuma poca corrente lo potete attaccare a qualunque presa però appunto 45 watt ci metteva un sacco e quindi sono andato dal mio cinese di fiducia o guarda su amazon ma su amazon si trovano o questi qua 12 volt con bassa potenza massimo 50 o 60 oppure quelli per la 220 per la corrente di casa che hanno magari assorbimenti spesso sono dai 500 watt in su quindi comprare quello e usarlo ci vuole un inverter anche abbastanza accorazzato noi l'inverter non ce l'abbiamo perché per ora non ci è mai servito avere la 220 in camper quindi l'idea di dover prendere il cuociriso attaccarci l'inverter con le batterie gm magari attaccare i 500 watt non lo fai con tutta quella quella leggerezza ho deciso di vedere cosa offriva il mio cinese di fiducia lì esperx e giornalmente vado a vedere per le offerte che mi offre e puntualmente mi fa comprare qualcosa maledetto cinese certo maledetto cinese ovviamente e diciamo che da quando abbiamo maturato l'idea del massi possiamo prendere l'upgrade a quando effettivamente siamo arrivati al momento dell'acquisto non parliamo poi di quando poi il prodotto è arrivato un po di tempo è passato però ci siamo decisi abbiamo trovato il prodotto che secondo roberto che è il cuoco lo chef di casa era era quello più adatto e abbiamo fatto l'acquisto il cinese mi ha mandato subito un messaggio ha detto guarda che il tuo pacchetto arriva cioè guarda che la tua spedizione consta di due pacchetti io ho detto beh la farà sbagliata anche perché il tracking dei due colli era lo stesso magari mi hanno mandato un messaggio sbagliato loro qualcosa vediamo quando arriva e marta è stata vediamo quando arriva lui ha pensato vediamo quando arriva ma non lo ha detto a me quindi quando mi arrivano questi due pacchetti dico cosa sarà arrivato oggi perché nel frattempo tu hai ordinato delle cose ma ti sei dimenticato di quello che ha ordinato questo no però quindi apro il mio primo pacchetto e trovo questo tipo arrivato il nostro fornetto che bello il pacchetto la scatola mi lascia un po perplessa perché mi sembrava che roberto avesse detto che era più grande di quell'altro apro apro e estraggo questo bel pentolino bello bellissimo sembrava un po il bollitore del latte che usavo quando ero universitaria nella casa milano un pentolino che ha anche una parte in metallo di cui poi vi spieghiamo sopra e ci hanno fornito anche il misurino ma la questione era ma io sto coso dove lo scaldo e per fortuna c'era il secondo c'era secondo pacchetto mentre mi ponevo queste domande ha detto apriamo anche il secondo pacchetto e per fortuna il secondo pacchetto già dalla scatola ma ha detto che forse mancava un pezzo c'è la maniglia e ecco voi la nostra friggitrice per fare le patatine in campo no ho sbagliato qualcosa ma sì 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 no pensavo di fare i ciccioli ovviamente non è la friggitrice questo è il pulsante da dan questo nostro fornetto con due spine che poi vi mostreremo all'interno e possiamo mettere il nostro padellino mettiamo dentro il padellino padellino che come vi ho fatto vedere togliamo il bicchierino dentro e consta di un recipiente antiaderente che tiene due litri mi pare e di un piccolo recipiente in alluminio praticamente come vi mostrano le fotografie che trovate online il cinese cosa fa qui sotto mette il riso con l'acqua riso bianco qui sopra mette lo spezzatino il tofu saltato i peperoncini e si scaldano praticamente a vapore sul secondo piano quindi potete scaldare anche due cose volendo nello stesso pentolino nello stesso momento tenendole separate si chiude ermeticamente perché alla guarnizione la guarnizione ha lo sfogo naturalmente per il vapore ok ci sono i pulsanti in inglese che è stata la grande sorpresa di roberto che mi aspettavo che arrivasse con i pulsanti in cinese perché in tutte le foto aveva i pulsanti in cinese però ho rischiato perché mi piace era l'unico modello che che ci interessava avremmo attaccato le ticchettine ma per fortuna si capisce e poi dietro invece ci sono altra sorpresa perché nella versione che avevo visto online nelle foto era la versione si vede vecchia con i pulsanti cinesi aveva praticamente tre una spina a tre poli da un lato si infilava il connettore per il 12 volte dall'altro col polo centrale in comune quello per il 220 santa anche dal classico connettore quello degli elettrodomestici piccoli dei registratori delle della vecchia radio diciamo quello il semplice quello piccolo due poli quindi dove lo mettevi decidevi il voltaggio ma mi pareva che fosse una cosa pericolosissima perché lo stesso connettore sempre sbaglio attaccavi il 220 a quello della 12 volte esploteva tutto e infatti questo invece è la versione upgraded in cui i due connettori hanno la stessa forma ma il 220 a tre poli quindi anche con la messa a terra e invece il 12 volt ha un dentino qui per cui quella del 220 non entra nel 12 volt e viceversa non invece il 220 non è il 12 volt non entra nel 220 perché c'è il terzo polo della messa a terra quindi sicuramente una soluzione più funzionale e molto più sicura si poteva decidere la spina ho chiesto la spina europea è arrivata con l'asciucco a noi va benissimo perché sul knaus box life 540 che è un camper tedesco c'è l'asciucco tra l'altro l'etichetta non so se la vedete è in cinese però è prova a prova di idiota c'è della sottoscritta perché comunque c'è 220 volt con la freccina che indica di qua e il 12 volt con la freccina che indica di qua quindi diciamo che non si può sbagliare e l'upgrade appunto il prodotto l'ho scelto perché poteva viaggiare su entrambe le tensioni e a 12 volt ha una potenza di 100 watt quindi più del doppio di quello che avevamo prima e se lo attaccate alla 220 invece sale a 300 watt quindi decisamente molte volte in più quello del vecchio nostro 12 volt e tre volte in più cioè tre volte la potenza del 12 volt quindi se siete magari in campeggio avete la corrente attaccata e quindi potete sfruttare anche la 220 all'interno del camper per noi che non abbiamo l'inverter potete magari cucinare il riso o la pasta addirittura in modo molto più veloce senza neanche dover utilizzare il gas che cosa che noi guardiamo sempre pochissimo infatti ogni tanto il dubbio ma di gas ne abbiamo dentro o no in caso questo una volta c'è capitato che quello lì ci ha salvato che avevamo poco gas non mi ricordo c'è stata una volta in cui ci ha salvato e abbiamo scaldato qualcosa perché forse eravamo a secco di gas quindi avere un'alternativa elettrica per cuocere o almeno scaldare può essere interessante mi piacerebbe poterti dire Roberto è pronta la pasta col sugo ma non l'abbiamo ancora provato quindi il prossimo esperimento probabilmente faremo o in casa o in camper parcheggiati sotto casa giusto per avere la pia illusione di poter fare qualcosa proveremo a cuocere e poi vi diremo come è andata quindi per questo video era giusto un po' era un po' anche una scusa per ritornare a fare un video dopo questa depressione del non si viaggia non si usa il camper non ti viene neanche in mente qual è il prossimo video che potresti fare quindi ora un po' un giochino diteci un po' cosa ne pensate se avete qualche accessorio simile mostratecelo nei commenti è sempre interessante per noi vedere anche le esperienze degli altri perché tu guardi le tue cose ti fai un'idea poi scopri che gli altri hanno delle idee che sono ancora più belle delle tue e quindi vai a comprarle subito no è comunque sempre molto utile secondo noi confrontarsi e scambiarsi curiosità e consigli per cui noi vi diamo i nostri ma ovviamente se volete accettiamo volentieri anche i vostri quindi iscrivetevi al canale cliccate sulla campanellina in alto così sapete subito quando viene pubblicato il nostro prossimo video visto che le tempistiche sono un po' labili in questo periodo se vi piacciamo mettete anche il clic sulla campanellina e per oggi è tutto per oggi è tutto e quindi da Marte e Roberto di 4in1 grazie per averci seguito a presto ciao ciao